Yoko Ono, artista all'avanguardia, è uno dei nomi di spicco del panorama culturale mondiale, è stata la persona che ha più influenzato la vita di John Lennon, sia dal punto di vista privato che da quella artistica. Ha finito per dargli la direzione, sia nella vita privata che in politica, talvolta convincendolo ad avere delle iniziative di protesta e anche suggerendogli quale tipo di droga andare a usare. Dunque veramente una sorta di Virgilio. I due si incontrarono il 9 novembre del 1966 all'Indica, una famosa galleria d'arte londinese, uno dei punti più importanti dell'incontro della cultura di quel periodo a Londra. E da quel momento divennero inseparabili, si sposarono nel 1969. Yoko Ono dunque selezionava tutto nella vita di John Lennon. Abbiamo detto le droghe, ma anche le abitazioni, gli strumenti musicali, le amicizie personali. Presenziava le registrazioni e inoltre spinse John Lennon a separarsi dal suo amico di sempre, Paul McCartney. Che cos'è il Bed-In e che ruolo ebbe il pacifismo nella vita di John Lennon? Verso la fine degli anni 60 John Lennon abbracciò la causa politica. L'episodio del Bed-In effettivamente fu un gesto eclatante, di vera e propria protesta. Un po' perché John Lennon riusciva ad avere su di sé grande attenzione mediatica. Un po' perché i rapporti con Yoko Ono effettivamente incuriosivano l'opinione pubblica. Che cosa si inventarono? Sendo la coppia del momento, sendo pacifista, attivista su più fronti, praticamente si barricarono in una stanza di albergo della Laura Hilton per protestare contro il Vietnam, contro le scelte politiche americane. Questo tra l'altro in un certo senso influenzerà i rapporti di John Lennon con il governo americano, che ricordiamo per anni non gli darà il visto per gli Stati Uniti e in una seconda fase non gli darà neanche la green card. Questo episodio di protesta, questo famoso Bed-In è chiamato così proprio perché i due artisti all'avanguardia assolutamente rimasero sul letto per ore e per giorni. I fotografi, curiosi in generale, gli esperti di costume, che cosa si aspettavano? Si aspettavano che da bravi hippie, quali erano Lennon e Yoko Ono, facessero l'amore in pubblico. Questo non avvenne, ma si limitarono a episodi, a discorsi, anzi di protesta, a pacifisti sempre, senza però dare poi particolarmente scandalo alla fine. Al primo Bed-In ne seguì un altro. La coppia inizialmente aveva scelto New York, ma a Lennon era stato vietato l'accesso negli Stati Uniti a causa del suo utilizzo di cannabis. E così il viaggio di nozze proseguì in Canada, a Montreal. E John e Yoko rimasero chiusi per una settimana, dal 26 di maggio al 2 di giugno, nella suite di un famoso albergo canadese. E successe che il primo di giugno venne inciso uno dei primi singoli di successo della Plastic Ono Band, quel Give Peace a Chance, che diventerà un autentico inno del movimento pacifista. Dall'LSD all'eroina. Quanto influì la droga nella sua vita? La droga fu determinante nella vita di John Lennon. Già all'epoca dei Beatles, infatti, il gruppo si distinse per aver provato le nuove droghe provenienti dall'India, per aver usato l'eroina, anche se mai attraverso aghi, perché sembra che il gruppo fosse assolutamente impaurito dall'uso degli aghi nella pelle. Perché fu determinante? Perché non solo le scelte artistiche, ma anche quelle personali, quindi a un certo punto l'allontanamento da Yoko Ono per 18 mesi, furono determinati dall'iperuso, di fatto dall'abuso di eroina. Già al tempo dei Beatles fu scritta questa famosa canzone, Lusing the Sky with Diamonds, che sarebbe LSD, un inno alla droga che secondo i Beatles di fatto non aveva nessun effetto negativo. Su John Lennon invece aveva grandi effetti negativi, perché il rapporto con la prima moglie fu assolutamente turbato dall'iniziale uso della droga, ma anche il rapporto con Yoko Ono, perché entrambi facevano uso di droghe fino a quando non provarono insieme naturalmente a disintossicarsi. L'uso della droga e anche la fase di disintossicazione però ha influito su John Lennon nella stesura di una canzone molto importante per la sua vita personale, che era Cold Turkey, ovvero il sudore del tacchino freddo, ovvero quella fase in cui il drogato cerca di smettere di essere dipendente dalla droga e di fatto a continue crisi e continue ricadute. Una delle prime conseguenze di queste sostanze, che divenne poi una vera e propria tossicodipendenza, fu il cambiamento in peggio del carattere di John Lennon, che esasperò al massimo i rapporti già un po' tesi del gruppo fino ad arrivare allo scioglimento dei Beatles. Una separazione che venne velocizzata anche dalla morte di Brian Epstein, in quanto aprì una serie infinita di discussioni su chi scegliere quale loro futuro manager. Squilibri su squilibri, accentuati anche dall'invadenza eccessiva di Yoko Ono nella vita di John Lennon. Un'invadenza che non era neanche lontanamente paragonabile con quella della precedente moglie di Lennon, e cioè Cinzia. John Lennon più volte aveva tentato di disintossicarsi, come aveva detto anche lui nella canzone Cold Tarket, ma ci fu un elemento che divenne importante, come ha rivelato recentemente Yoko Ono in un'intervista. Il loro rifornitore aveva deciso di avere più guadagni dalla vendita della droga, che così aveva iniziato a tagliare l'eroina insieme a Borotalco per bambini, diminuendo così di molto l'effetto. Questo, unito al carattere dei due e alla paura degli aghi, portò entrambi alla disintossicazione.